Arriva il REI, il reddito di inclusione sociale, da 187,50 a 485 al mese. Dopo quasi un anno di applicazione, il sostegno per l'inclusione attiva, misura sperimentale di contrasto alla povertà, in vigore dal 2 settembre del 2016, verrà sostituito dal reddito di inclusione, a partire da gennaio 2018, che assorbirà anche l'assegno sociale di disoccupazione. La CISL non ha soltanto contrattato a tutti i livelli le condizioni per l'applicazione del SIA, dice il segretario provinciale Enrico Coppotelli, grazie alla collega Alessandra Romano, ma accompagnato con proposte sostenibili e testate nei laboratori per la coesione sociale e territoriale, la nascita di nuove misure per il contrasto alla povertà. Il REI è la risultanza di un percorso intrapreso nel 2013 con l'alleanza contro la povertà di cui la CISL è promotrice, finalizzata ad ottenere uno strumento di sostegno a reddito lungimirante e di ampie aspettative, poiché, come CISL, riteniamo, dice Coppotelli, che il benessere collettivo non possa che scaturire dalla somma di una moltitudine di benessere individuali. Pertanto promuoviamo sempre modelli di welfare economics. Grazie alla promulgazione della legge delega numero 33 del 15 marzo 2017 per il contrasto alla povertà, il governo sta provvedendo ai decreti attuativi, per cui le domande per il REI potranno essere presentate dal 1 dicembre 2018 presso i comuni di residenza, sulla base dei quali l'Inps emetterà la graduatoria degli aventi diritto, a cui verrà rilasciata la carta REI con la ricarica del contributo spettante da utilizzare per i pagamenti elettronici. La novità del reddito d'inclusione sociale riguarda la misurazione della situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti, che non si limiterà soltanto alla presentazione dell'ISE, l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a 6.000 euro, ma terrà conto anche dell'indice della situazione reddituale, fino a 3.000 euro, che include il patrimonio mobiliare ed immobiliare per avere un quadro completo delle disponibilità. Grazie per la visione!